Proseguiamo il giro tra le squadre dilettantistiche del nostro territorio. Oggi siamo al Santo Maso di Perano per far visita alla locale squadra cittadina con il presidente Leonardo D'Alonso. Torniamo a presentare questa squadra che in realtà è stata seguita da una delle nostre telecamere nel recentissimo derby di Coppa Abruzzo con la Val di Sangro. Una vittoria di misura che lascia aperto qualsiasi tipo di scenario anche per la gara di ritorno ma comunque partire con una vittoria fa sempre bene anche per il morale. Buonasera Antonio. Allora sì, era una vittoria comunque di prestigio perché è un derby che mancava da tantissimi anni per cui allenarsi con una vittoria specialmente per un gruppo nuovo come il nostro è sicuramente una spinta importante. È stato fatto un lavoro, come dicevo anche domenica, di rifondazione praticamente totale della squadra che per vari e diversi motivi ha avuto molte defezioni per cui è stato fatto un lavoro importante di scelta di giocatori di giocatori che dessero una mano soprattutto nello spogliatoio perché abbiamo avuto degli abbandoni importanti di veri senatori che ci hanno portato dalla terza categoria fino alla prima a fare comunque grandi campionati. Abbiamo avuto, come dicevo domenica, un solo abbandono per scelta sportiva di provare a fare un cambiato di promozione per cui il resto delle defezioni che andiamo a elencare abbiamo perso il portiere, William D'Amico che per motivi di studio si è trasferito a Cesena Daniele Bevilacqua che per motivi di lavoro è andato a Roma Luca Marchionno e Angelo Pizzi che hanno deciso di smettere con le loro carriere per cui è un abbandono fisiologico abbiamo perso almeno parzialmente Pietro Di Paolo per una rottura del crociato uno dei tre giocatori che hanno scorso il crociato assieme a Simone Spinelli e Umberto Tozzi questi ultimi due hanno abbandonato anche loro la squadra mentre Pietro in stand by stiamo attendendo con calma il rientro di Marco Caldi che sappiamo bene il gravissimo incirante subito nella gara contro il Bomba abbiamo perso Pasquale Schieda che è tornato a Villa Santa Maria anche lui per motivi di lavoro, non riuscì più a organizzarsi per cui ha scelto di fare una categoria meno impegnativa anche più vicina a livello logistico alla sua residenza abbiamo perso Tommaso Scamuffa che per motivi di lavoro quest'anno non ha deciso di ricominciare e stiamo ancora valutando la posizione di Davide Tundo se riuscirà a organizzarsi con il lavoro per essere dei nostri Ernesto Cappellone ha deciso anche lui di fermarsi con il calcio Thomas Vitelli invece fa parte del calcio a 5 qui con il Real Archie quindi ha deciso di optare per una scelta dove magari ha più possibilità di giocare ma comunque anche Thomas rimane uno dei ragazzi di Perano fondanti di questa squadra che comunque fa parte della nostra famiglia per cui a fronte di tutti questi abbandoni per una società che non ha settore giovanile non ha la possibilità comunque di avere risorse infinite non è stato facile quest'estate sedersi e dover ricalibrare settore per settore uomo per uomo i giusti giocatori quindi un plauso almeno su carta ci va fatto a noi come società che siamo stati coesi, uniti nell'affrontare da subito la rifondazione della Rosa e siamo riusciti comunque ad allestire un organico di prim'ordine per quanto riguarda la prima categoria per cui adesso specifico anche i vari arrivati per la nostra tifoseria per chi non è stato presente domenica in porte è arrivato Federico Lanci dal Castelfrentano in difesa ultimo acquisto di Gabriele Innocenti che è un difensore che è stato a San Vitolo l'anno scorso in promozione abbiamo preso Mattia Di Campli 2005 fuori quota dall'Union Fossacesi in eccellenza a centrocampo abbiamo preso Loris Bellicciotta anche lui dal Castelfrentano abbiamo preso Matteo Di Piero esterno che può giocare tutta fascia tra centrocampo e attacco sempre dal Castelfrentano Marco Pasquarelli 2002 fuori quota che viene dal Villa Santa Maria anche lui un esterno offensivo d'attacco in attacco abbiamo preso Danilo Venditti che dopo alcuni anni di fermo ma che continuava a giocare a calcio a 5 ha deciso di ricominciare a giocare a calcio quest'anno dopo una brevissima parentesi a bomba l'anno scorso abbiamo preso bomber Nicola Di Matteo che anche lui viene dal Castelfrentano era un attaccante molto navigato e comunque conosciutissimo per cui la squadra almeno su carta dovrebbe garantirci una certa tranquillità sia a livello numerico che a livello qualitativo è ovvio che l'arrivo di mister Marco Giangiordano Berte nel far integrare al meglio sia i più giovani perché un allenatore essendo abituato alle giovanili ad avere una certa mano, una certa disciplina un certo tocco che magari potrebbe essere mancato negli anni passati nel dare fiducia a determinati ragazzi per cui crediamo che questo giusto mix tra la vecchia guardia e i giovani che avevamo e che sono venuti comunque dovrebbe garantirci questo standard di affidabilità per tutto il torneo Una stagione iniziata bene ma non bisogna cullarsi sugli allori perché la concorrenza almeno in campionato è abbastanza guerrita compresa la stessa Val di Sangro Allora non solo la Val di Sangro come si dice guardando le categorie più alte si guardano i fatturati, i monti ingaggi, le spese delle società Guardando i blasoni che ci sono nel torneo e anche le chiacchiere di mercato ci sono delle squadre che hanno l'obbligo di stare lassù e anche ovviamente i valori tecnici nelle rose non voglio fare nomi perché comunque sono più che rinomate anche se poi questa è una categoria dove bastano delle settimane dove si inanellano infortuni, qualche squalifica, qualche domenica no e là bisogna vedere chi ha formato il gruppo per bene a livello di scelte di uomini e a livello di ambiente perché mai come la prima categoria è uno di quei campionati dove se non ci si cala mentalmente a fianco all'aspetto tecnico è difficile vincere i campionati perché ci sono dei campi sgorbutici, scomodi ci sono anche tanti campi in sintetico dove comunque chi ha una padronanza e un'abitudine ha comunque un dubbio vantaggio e tra cui ecco come dicevi bene la Val di Sangro credo che sia l'unica squadra con il campo in erba naturale che andremo ad affrontare noi le altre per cui credo che sarà difficilissimo per chiunque fare punti a Montemarconi di Atessa ma ci sono due squadre che non conosciamo come Bucchianico e Vianova San Buceto che sicuramente avranno un bacino di utenza dove attecchire molti giocatori di qualità quindi saranno due squadre che sicuramente diranno la loro e poi ci saranno secondo me tante sorprese perché ci sono le neopromosse che comunque tipo il montazzo di Mr. Grimaldi è una squadra che è rimasta in blocco in blocco con qualche giusto puntello e secondo me quando si ha una squadra già collaudata si parte con un leggero vantaggio almeno su carta di non dover creare un nuovo ambiente c'è Rocca che comunque è ben allenata è un parco giocatori non indifferente è una società solida Scernica, Salbordino, Athletic ripeto qua comporre griglie di classifica è impossibile non ci sono squadre che potrebbero lottare per una quota salvezza perché comunque ogni squadra nel proprio piccolo ha quel giocatorino che gli permette di mantenere la rosa su certi livelli per cui è un campionato durissimo e ripeto servirà solo l'ambiente, gruppo, lavoro costante e la fortuna di non avere infortuni seri che possono compromettere il lavoro di qualsiasi allenatore perché è quella la base per fare bene in prima Concludiamo con il campo se ne parlava prima del campo in erba della Val di Sangro anche voi avrete qualche novità che vi creeranno probabilmente qualche piccolo contrattempo ci saranno degli importanti lavori qua al San Tommaso giusto? Sì, allora, recentemente il Comune ha preso un bando di 300.000 euro per creare un campo insintetico credo che ultimeranno gli ultimi dettagli entro fine anno e parlando con l'assessore allo sport Evandro Impicciatore con il sindaco Gianni Belisario che colgo l'occasione di ringraziare entrambi comunque per la vicinanza che ci danno a 360 gradi i lavori dovrebbero cominciare entro marzo così abbiamo quei 5-6 mesi di lavori che dovrebbero bastare a livello di tempistica per creare il manto le luci già sono ad hoc quindi non c'è bisogno di intervenire sulle luci per cui penso che con 6 mesi di lavori dovrebbero riuscire a fare tutto un handicap parziale potrebbe essere andando a naso per le ultime 2-3 partite di campionato se i lavori dovessero cominciare nei tempi che si stanno prestabilendo poi è ovvio non aspetta a noi come società entrare nei tecnicismi comunali però è ovvio per noi è una soddisfazione enorme avere un campo insintetico a Perano perché è noto a tutti l'amore e la passione che mettiamo nel gestire questa struttura che anche se è un campo in terra comunque a livello igienico sanitario la manteniamo alla perfezione è un ambiente che la domenica viene vissuto da tantissimi tifosi ed è qualcosa che ci inorgoglisce anche domenica c'è stato un colpo d'occhio eccezionale speriamo di mantenere tutto l'anno corgo l'occasione per ringraziare i tantissimi sponsor come hai potuto verificare anche tu di persona Antonio che ci danno una mano perché senza di loro veramente non potremmo fare calcio e nonostante i tempi di crisi vedere queste tante porte aperte che comunque hanno creato questo micro azionariato per noi è un motivo di vanto avere una società sempre più forte dal punto di vista numerico di tanta gente che lavora nel vero senso della parola all'interno e avere tanti ex giocatori del Pierano come Arnaldo Tucci Enzo Livora Roberto Ceroli quest'anno l'ingresso di Gian Domenico Sciurilli comunque rafforza quell'idea di creare un legame vero tra chi ha fatto la storia del Pierano e chi comunque la deve portare avanti secondo i canoni che abbiamo prestabilito come società quindi questo è un punto fondamentale speriamo di far ricredere anche qualche scettico che magari basa solo sul risultato sportivo quello che noi stiamo facendo e invece non si analizza il percorso intero di una società che sta facendo da otto anni che non ha un euro di debito verso lo Stato che questa è una tematica che a molti tifosi è sconosciuta ma probabilmente se entrasse il fair play finanziario nei dilettanti tante squadre non si potrebbero nemmeno risegnare invece il Pierano non ha un euro di debito verso lo Stato quindi questo è un punto sul quale insisto come Presidente come rappresentante legale per qualsiasi chiacchierone del posto se vogliono verificare i bilanci possono fare tranquillamente possono venire in ufficio da me o da Enzo Divora abbiamo tutti i documenti a disposizione per cui gradiremmo che a fianco alle critiche magari certe volte asettiche senza conoscere la materia ci ponessero alcune domande per capire sul perché abbiamo un tipo di gestione diversa da molte altre società senza fare alcun paragone alcuno però noi siamo convinti di quello che stiamo facendo e ripeto almeno a livello ambientale i risultati parlano chiaro abbiamo la tribuna piena ogni domenica quindi i ragazzi vivono il paese a 360 gradi sono radicati qui anche da situazioni extracampo quindi vedere che i ragazzi frequentano i locali del paese e vanno a vivere tante amicizie in maniera così intensa vuol dire che stiamo facendo sociale fatto bene a a